Eccola qua, la finale di Champions League Bayer Monaco contro il Borussia Dortmund La rivincita, ci può stare o no? Due volte gli scontri con il Borussia Persi 3-1 e 1-0 Una Supercoppa e una Coppa di Germania Inizia la Champions League Su Borussia Dortmund Trent Winzel Reus Sbaglia Reus Kanté E' Bessa nera E' Lewandowski La torre su Per Lewandowski Winzel Avasta Neymar Vede Mbappé Fa attacco Mbappé Mbappé Chiglia Mbappé Al quinto minuto Del primo tempo In vantaggio Il Borussia Dortmund Che tacchetto di Di Reus Parte super bene Reus va super a Provera più a palla Hernandez Messi Messi ci prova Messi non ci va Codesca Ma sbaglia Ma sbaglia tutto Neymar 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 La grossa Non ci arriva Mbappé Winzel Winzel Si spera Per il 2 a 0 12 minuti Dall'inizio Della partita Della finale Di Champions League Borussia Dortmund Contro Bayer Monaco Kanté Di testa Non la prende Perché è troppo basso Lewandowski A Bessa nera Però scivolata Ehi Che lancio Peccudigno La liscia Mandic Ma ci va il portiere Sbaglia tutto però Amma mia Mandic Che difesore Ha salvato l'ultimo La prende No la lascia là Pro Mbappé La lascia là Bestia nera E c'è No No Non mi che era fallo Non mi che era fallo Dai Lewandowski Passaggio per Alisson Per Robinson Neymar Vede Mbappé Eh sbagliato Ah no Reus Per Leo 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 Eh sbagliato tutto Leo Ha sbagliato tutto Leo Vanno davanti Bayer Monaco 1-2 Del Bayer Monaco Giusto Per Lewandowski Che stoppa di Lewandowski 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 Per Codigno Andreazzola Che brutto Ah no Codigno Che errore Alisson Per Alex Niente A gangi Terrico Pra palla Per forza La passa A Winsell Alex Deve scattare Messi Ma sta là Uh Tacco di Messi Ma non va La sua Alla fine Manco attacco Winsell 1-2 La salva No la lascia là Rimane là A gangi Prende contro il piede Il contro il piede Neymar Andante se la prende Bayer Monaco Sta attaccando moltissimo A gangi però La prende Reus Da solo Non può fare niente Mbappé Sbaglia tutto Neymar Invece no La guadagna Reus Per Robinson Può crossare Robinson Robinson Di testa Niente Cante Ancora Winsell Prova a tirare ancora Winsell Sopra la traversa Winsell No La puoi buttare Avanti Rinvio Per canter Che la prende di testa Grazie No Neymar Mbappé da solo Mbappé prova Mbappé prova Ma c'è E' in Dante Se nessuno mangia Indipeso Codigno Ma bro Ci provano a winsell Winsell Codigno Fa tutta la Mbappé Cosa fa Alisson la butta A caccia d'angolo Mi sa La lascia Pappé Invece no Kimmich A caccia d'angolo Per me la passerà Per Lewandowski Invece no La passa in mezzo La lascia là Non ci credo Le butta via 1-1 Pasticcio Muller Una pareggia Pasticcio Della difesa Il Borso Domo Con Maddick La lascia là E Muller Basta che il calcio Fa gol Guardate Guardate là Guardate La stop La butta via Ma c'è Muller Che è il primo ballo Di Alisson Non ci arriva Pareggio Il Borussia De Bayern Uno pari Muller Al 45esimo Sembra FIFA Ultimate tempo Però va bene Reus A ganji Finisce ancora Il primo tempo Più il tempo Un po' Equilibrato Per Borussia C'è provato Più lui Però Bayer Un'occasione Bang Gol Prendiamo Che Lewandowski Non sarà in condizioni 5 ti riporta Invece 3 ti riporta Borussia Secondo tempo Palla Bayer Monaco Come Lewandowski Kanté Prova a riguardo Palla Eh già Giavi Di sigla Bayer Passaggio Il primo tempo Reus Bappé Da solo Bappé Prova a vedere Reus Ha visto Reus Ha visto Reus Marco No Paraneo Neuer Neymar Pembandik Non ci arriva Prova Mbandik Va Kanté Penne Neymar Crossa Pelleo Messi Troppo basso Aganji Ma basta Lei la butta via Dipensore Ma c'è Robinson No Non puoi lasciare a lui Prova scivolata Oh Bella palla Pemuller Ma Ganji Deve recuperare Aganji La stoppa Ma le prende Contrasto Come le vince lui Kanté Neymar Mbappé 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 da solo Vede Leo Messi Ma c'è Boateng 1-2 Con Codigno Scivolata di Wins Non ci arriva Codigno Cross Alisson 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 Messi Prova Prova a Mannar Bar Tutti No Questo ha sbagliato Marco Rose Rose Ma cazzo Reus Non è andato Tirato Esce Clementin Togli su Per Tiago Alcantara Borussia Borussia Molto Niente Non va Andrezola va Robinson Aganji C'è Messi Che palla Contro i piedi Marco Marco Reus Marco Reus Marco Reus In contro i piedi Il Borussia 2-1 Marco Reus Il capitano La Champions League È più vicina Parte da solo Rallenta La metà All'angolino Del portiere Marco Reus Aganji 2-1 Borussia Dormwood Alex Vape Vape non gli la fa A prendere palla Reus Winsell Winsell Prova a ricoprare palla Van Dick Mamma mia Che tiro Di Diego Alcantara Sul primo palo Esce Cotinho Intanto qua Piove Un botto No sbaglia Intanto entra anche Gnabry Aganji Prova a guadagnare Va verde No no Erore del dimensione Come sempre Non ci credo Mamma mia Che rischio Gnabry 10 minuti Dalla fine Il Borussia Rizzi ancora Abbot avanti Kanté Kanté Winsell Vape Vape sopra il difensore Eh niente Prova Kanté Di destra È troppo basso Prova a prendere Lewandowski Fino a stasera È stato a secco Spera che ci rimane Negli ultimi 5 minuti Reus No E Andraziola E Andraziola Lewandowski Che rischio Per Borussia Dalla mood Esce anche Andraziola Mette Coman Tutto in attacco Il Bayern Monaco Alisson Avanti Niente 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 Robinson Prova È scivolata C'è il fallo Ma va avanti Muller Va avanti Muller Van Dijk Il muro Reus Neymar Neymar Eh sbaglia tutto Tutto in attacco Sto il Bayern Monaco Leo Messi Leo Messi Se ne va Leo Messi Eh riusciata Ma qua è finita la partita Ragazzi È finita qua E Borussia No Borussia Dormut Vince La Champions League La finale Reus È finalmente Dopo due perse Finale Con il Bayern Monaco E alzala capitolo Alzala Non diche che esulta Il Bayern Monaco Distrutto Esultiamo tutti I panchinali Esultano Tra loro Eccolo Eccolo la festa Del Borussia Dormut Eccolo qua Alza capitano Alzala Chi è capitano Accantino Ma no Reus Grazie da lui Alza capitano Alzala Eccolo qua La Champions League Il Borussia Dormut Vinci Stavo di vantaggio Sì sì Alla faccia il Bayern Monaco Sì Non penso che farò la Supercoppa Perché tanto Eccolo Esultiamo Anche ieri Il muro giallo esulta Ma Marco adesso ancora Sì La porta al muro giallo Come Il campionato Ma non La Coppa Di Germania E ne la Supercoppa Marco se risulta Quanto Avvo Young E' rimasto fuori rosa Per l'ultima forza Che ha fatto Robiso risulta Borghi che bene anche lui Winzee risulta Sancio risulta Brandt risulta Eee Olè Campione Campione Anche I fuochi artifici Come sempre Bravante i botti Bellissimo A foto Ricordo La Champions League Che esulta Schultz che ne ha fatto Manca una parte Per sbaglio Anche lui Ince la Champions Ah Anche Akimi Brandt Quella da Rocca Ha vinto Oh Holland Che esulta Ah Facciamo Anche Intervista Devo partire Sì dai Facciamo anche quella Dai Tempo se ce la faccio Il tempo Ah non mi va a fa Che cosa è successo Non ho capito Eccolo qua Intervista 2-1 Bursa Contro Bailmona Mi ha scritto Avete fatto un cammino Fantastico Vuoi aggiungere qualcosa Il tempo di figgiare Per metterci al lavoro Eh certo Ovviamente Una giusta speciale Per la squadra Deve mai aver compreso Quelli che esistono Al passare il tempo Per il giustizio Bisogna iniziare A precipitare Da ora Dai Robinson Parliamo di Robinson Nessuno al posto No Dai Sì dai Dai Morto felice Meno male L'ultima domanda Mi sarò Che giù è la partita Andiamo così Ute felicesì Ute felicesì Siamo campioni Arrivederci Arrivederci anche con questa serie Ciao